Ripartire da una sconfitta pesante per capire cosa non è andato, cosa non va, intervenire immediatamente. Deve essere questo il compito del Como questa settimana, comunque in questi giorni, dopo il pesante 3-0 rimediato domenica sera nella trasferta di Venezia. Gara pessima dei lariani che hanno combinato ben poco e anzi il divario poteva essere ben più largo. Ma da qui bisogna ripartire, ripeto, capire cosa non è andato, capire cosa sistemare gli interventi sul mercato e non limitarsi a pensare che possa essere stata una serata sbagliata. La gara di sabato prossimo interna allo Stadio Sinigaglia con la Reggiana è già un esame. È vero, siamo soltanto alla seconda giornata, ma questa partenza purtroppo ha lanciato dei segnali d'allarme.